Dacia Marini, un libro in cui è tornato un po' bambina con un episodio della sua infanzia che è pazzesco, qui ci sono tanti giovani, ragazzi più giovani, che cosa vuole dirgli raccontando anche di questo episodio veramente incredibile? Beh, vorrei fare capire che cosa può produrre la guerra, perché molte persone dicono vabbè non mi riguarda, c'è un atteggiamento in questo momento di passività, quindi secondo me se si porta un'esperienza vissuta da una bambina durante la guerra, credo che possa fare qualcosa e vedo che i giovani rispondono molto bene. Un'esperienza talmente forte che il libro si chiama Vita Mia, non Infanzia Mia, penso che l'abbia segnata molto. Sì, sì, è stata un'esperienza determinante, tutto il mio futuro, la mia vita ancora di oggi si basa su quell'esperienza drammatica. E ha paura di questa guerra per le generazioni più giovani, per il mondo intero, queste guerre? Purtroppo sì, tira un'aria molto pericolosa, soprattutto di irresponsabilità, è come se la gente non si rendesse conto che una scelta appunto guerresca porta a catastrofi mondiali poi, perché siamo tutti legati.